Siamo sempre qui nell'estra, siamo riusciti ad avere il permesso, però sono immagini inedite, adesso che vi farò vedere, parlo sottovoce perché se ci sgamano, nonostante il permesso, ci arrestano. E questo che cos'è? Supermercato, supermercato che è una cosa rara che ci sono in Brasile. Ora vi faccio vedere il corridoio dei prodotti di limpesa, cioè saponi, roba di lavatrice, quella roba lì, guardate che cosa, che tecnologia, una cosa impressionante, non ho parole, non ho parole. Vedete, extra, guardate che ordine, che roba, qua ci sono le torte, guardate che come è lungo, dice sempre Don Angela che sta comprando di tutto, questo è il reparto sanitario, questo è quel pulire il cesso, la cabella, questa è la nasciura che sta comprando, silenzio se non ci arrestano. Alberi di Natale con la carta igienica, va che roba, una roba idilliaca, roba di Dante, cose di Dante, dantesche. Alberi di Natale di cioccolato, di cioccolato, di cracker, albero di Natale dell'olio, fatto con le bottiglie dell'olio, tecnologie avanzate, bottiglie di aceto, e poi c'è l'albero di Natale del Johnny Walker ragazzi, guarda lì, Johnny Walker, va che bello, però adesso, però adesso ci dobbiamo fermare perché se no se ci vede, se ci vede la sicurezza ci arresta, immagine inedite, inedite, neanche le Iene ce li hanno con le immagine qui. E qui finisce il video, un buon Natale a tutti, arriverà sto Natale, ogni volta vi dico buon Natale, fa arriva, arriva, prima o poi arriva.